Coronavirus continuano a diminuire i ricoveri in Sicilia, aumentano i dimessi dalla terapia intensiva, costante e basso il numero dei nuovi contagiati ancora in crescita e guariti. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola, aggiornato alle 17 di ieri, giovedì 23 aprile, in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 62.150 più 3.418 rispetto a ieri, di questi sono risultati positivi 2.926 più 43, mentre attualmente sono ancora contagiate 2.301 persone più 14, 412 sono guarite più 24 e 213 decedute più 5. Degli attuali 2.301 positivi, 510 pazienti meno 25 sono ricoverati, di cui 34 in terapia intensiva meno 1, mentre 1.791 più 39 sono in isolamento domiciliare.